Ma ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, scusate giustamente sempre con l'orario o che ormai trovi il suo video della mezzanotte, ma vabbè non fa niente, mezzanotte tra mercoledì barra giovedì sarà l'endesima volta così, ma vabbè non vi preoccupate, penso sarà proprio lo stesso per domani perché non so se riesco subito a mettere il video perché mi devo vedere la partita alle 7, quindi vada le ciance tra partite e tutto il resto. Ora vi sto registrando il video, quello dei biglietti, quello che feci lunedì scorso, giusto? Quello era dei biglietti delle partite di calcio quando io andavo a vedermi in Napoli, allo stadio, stavolta vi faccio vedere la mia collezione dei biglietti, quella di quando andavo a vedere i concerti, quelli di Gigi D'Alessio, che sono stati 5 ma bellissimi. E quindi ora vi faccio vedere i biglietti e vi dico i nomi dei tour che sono andati a vedere i concerti. Allora il primo concerto è stato questo, che sono un po' di più perché stavo in compagnia, dico così, a me lo si capite. E questo era l'arena flegria a Napoli, il chiaro tour 2012, questo qui, uno. Poi il secondo, se vedete due perché sono stata con mia madre quella volta, da quella volta in poi, a per sempre diciamo. Questo è l'ora tour, poi questo è Gigi D'Alessio, live tour, sempre concerto. Questa è il teatro Pallapartenope, a differenza dell'arena flegria. Il teatro Pallapartenope, poi il penultimo, il stato allo stadio San Paolo, prima che si chiamasse stadio Diego Armando Maradona, giusto. Questo qui, il penultimo, perché l'ultimo è stato questo, figli di un re migliore, tra l'altro. Proprio l'ultimo, quello che ero andata a vedere, quello con Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo. Tra l'altro c'è il vlog del mio secondo canale, che poi andrete a seguire tranquillamente. E poi, ovvio, iscrivetevi in tanti sul mio secondo canale, così andrete a vedere direttamente pure i vlog e tutti i resti dei vlog, tra l'altro. E poi, ovviamente, dovevo aspettare il prossimo concerto, i prossimi due. Uno, già tengo i biglietti, quello del teatro Agusteo, ora non vi faccio vedere. Poi, nel caso, vi faccio il video aggiornato con gli altri biglietti quando andrò ai concerti, eppure giusto. E quindi, vi mando un grande bacio. Ci vediamo i prossimi video, come sempre. E quindi, per tutte le mie informazioni, prima cosa, nell'ifobox, come sempre, passate sul mio profilo Instagram. Marilena Saggio Ammo09, alias Mari Makeup. E quindi, mando un bacio e ci vediamo i prossimi video. Ciao a tutti, vi voglio bene. Ciao. Ciao.